...e prendersi cura dei tuoi clienti, conoscere i tuoi clienti, capire cosa vuoi in Sicilia... Sicilia ha avvicinato, è stato un grande livello di servizio. Massively, ha parlato del fatto che... ...ha detto che qui ci sono molte persone che hanno fatto molto di questo lavoro... ...fresh, moderno... ...e... ...e... ... ... ... ... ... ...